Il freddo, la fatica, i lavori che avanzano inesorabilmente. Tutto nella norma per una mattinata al cantiere in pieno inverno, e invece no. All'Arzilla di Fano, intorno alle 8.30, è accaduto l'imprevedibile. Uno degli operai impegnati nella realizzazione della vasca di prima pioggia, durante alcuni scavi, si è trovato di fronte a un ordigno bellico. Una vera e propria bomba d'aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale, di fabbricazione italiana, larga 20 cm e lunga ben 2 metri. Facendo questi scavi per gli ultimi collegamenti, hanno visto un oggetto, che è sicuramente una bomba, che poi si è rivelato essere una bomba, non l'hanno toccato, hanno subito chiamato, come prevedono le procedure, i carabinieri. I carabinieri a loro volta sono intervenuti per interdire l'aria e per chiamare successivamente gli artificieri di Bologna, che appunto sono intervenuti, quindi è stato interrotto il cantiere, sono state appunto messe in campo tutte le precauzioni del caso. È ancora fresco il ricordo di marzo 2018, quando un altro ordigno bellico era stato rinvenuto in zona Sassonia. In quel caso però era stato necessario evacuare mezza città. Questa volta invece si è risolto tutto a tempo di record. Alle ore 14 dunque sono intervenuti, chiamati dai carabinieri, ma soprattutto alla prefettura, il reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, i quali sono intervenuti immediatamente, hanno rimosso l'ordigno, che evidentemente era un ordigno comunque grosso, ma non pericoloso, e quindi hanno, come dire, portato poi l'ordigno in una cava a far esplodere in maniera tale, in sicurezza, totale sicurezza ovviamente, per loro e per tutti quanti. Dunque alle 14.30 si può dire che il problema era stato risolto. L'ordigno, non ci sono mai state interruzioni di traffico, problemi vari se non interruzioni nel cantiere. L'ordigno, che era una bomba d'aereo di fabbricazione italiana, era lì, non sappiamo bene perché, aspettiamo le indagini e le relazioni che ci manderanno i militari, ma probabilmente era degno dell'attenzione che comunque gli abbiamo riservato, ma non era pericoloso. Dunque, tutto sommato, questa vicenda si è chiusa bene, molto meglio di altre situazioni che anche nella città di Fanno abbiamo avuto e a parte le nostre preoccupazioni giuste e l'attenzione che è stata messa nel rimuovere l'ordigno e comunque confinare l'aria, possiamo dire che tutto si è risolto brevemente, in sicurezza e soprattutto un ringraziamento va quindi ai carabinieri, la prefettura, ma anche al genio ferrovieri di Bologna dell'esercito italiano che ha permesso che tutto si potesse risolvere nel minore tempo possibile senza grossi problemi.